Come ram esistono tanti animali domestici che soffrono di disturbi alimentari. Per la loro salute è fondamentale fornirgli un regime alimentare sano. Bisogna soddisfare al meglio le loro esigenze specifiche, affidandosi ad una curata selezione di prodotti di qualità fondamentali per il benessere dell'animale. In commercio ne esistono di diverse tipologie. Ad esempio, per tenere sotto controllo il peso per animali affetti da diabete, oppure cibi per patologie gastrointestinali per tutti quegli animali che soffrono di particolari allergie o intolleranze. Ricordate, fornire al proprio animale una nutrizione corretta a seconda di crescita, salute, attività ed età può rivelarsi la scelta risolutiva in tutti quei casi alimentari complicati.